Buonasera, dunque siamo ormai vicinissimi al voto, con stasera felice la campagna elettorale, domani giorno di riflessione e poi domenica e lunedì si va a votare. Vi daremo nei notiziari ancora le informazioni su tecniche, su come votare, gli orari e tutto dove si vota nella provincia di Pristoia, sono oltre al capoluogo, sono diversi comuni nella provincia di Pristoia dunque io prima cosa che intendo dire, credo, sono convinto che si debba andare a votare, vedete si può avere tutto lo schifo della politica come si usa dire, in questi giorni ci sono dei tribuni che fanno a chi la spara più grossa, c'è stato qualcosa di offensivo anche alla sensibilità degli italiani, il governo in qualche modo peggio della mafia, la mafia chiede il pizzo ma il governo uccide, sono cose terribili fare questo accostamento e credo che chi fa queste affermazioni debba essere cancellato, io lo dico al di là delle idee politiche di tutto, non si possono fare questi accostamenti, siamo alla degenerazione della politica. Oltre a queste punte di eccellenze negative, poi ci sono altre espressioni anche analoghe di aggressività paurosa, di una politica contro. Io credo che questa deve essere eliminata dal nostro orizzonte di votanti, lo dico con tutta la tranquillità del mondo. E bisogna andare a votare, proprio perché in qualche modo, in questo difficile cammino della democrazia, c'è difficile come la vita personale di ognuno, attraverso alti e bassi, fortune e sfortune, virtù e vizi di ciascuno di noi, è un continuo superarsi, un continuo rimediare, un continuo cadere e così via. E anche una nazione è così. Poi in questo caso nel contesto dell'Europa e nel contesto del mondo non si può andare a votare con un mitra in mano, bisogna votare consapevolmente, perché tanto qualcuno vince e altri perdono. E noi nelle elezioni comunali abbiamo l'unica possibilità che per ora c'è di fare alcune scelte. Intanto si può scegliere il sindaco. Guardate, anche sul sindaco, io vi do un consiglio molto generale. Bisogna scegliere chi, avete sentito, che non ha fatto promesse a caso. C'è qualcuno che ha promesso tutto. Mancherebbe da dire che vi rifarebbe la casa. A tutti i pistolesi riaccomodo anche le case. Il problema, bisogna domandarsi, sì, ma i soldi dove li hai? Quando tu andrai a fare il sindaco, dove li trovi i soldi? E questo basterebbe per smontare tantissime delle promesse che sono state fatte. Invece qualcuno ha cercato di motivare anche le spese che andrà a fare. Andare a fare il sindaco, guardate, è una cosa seria, è una cosa pesante, è una cosa da non dormirci la notte. E da una parte chi ci vuole andare, se lo fa coscientemente, è in qualche modo da applaudire. Qualcuno credo che lo faccia troppo alla leggera per una questione di potere. Ma se noi si dà il voto a questi, noi finiamo per pagarle noi le conseguenze di chi va a fare il sindaco alla leggera. Perché anche per le città è un momento delicato. O c'è la comunità che tira, perché si ritrova, perché si sente unita e va avanti con tutti i difetti che tutti abbiamo. Oppure se c'è delle leggere che sono a guidare, che vanno là per una questione di potere, spesso anche personale, allora sono guai. E allora io dico, dopo aver scelto il sindaco con questa consapevolezza e con questa ragione, una persona che vi sembra seria, scegliete chi vi è sembrato serio, sia che lo pensiate in termini di centrodestra resta che in termini di centrosinistra. Seconda cosa, al sindaco li dobbiamo affiancare in consiglio comunale un consiglio comunale altrettanto serio. Altrimenti se ci si manda dei burattini è finita, diventa una gazzarra dalla mattina alla sera e nessuno conclude nulla. È vero di un consiglio comunale che sia anche questo consapevole e serio, sia che sia di opposizione sia che sia di maggioranza, perché da tutte e due le sponde si deve dare il contributo per la crescita generale. Ma se ci va dei matti così, no, guardate, lì per lì possono fare presa, ma alla lunga rovinano tutto. E allora siccome avete la possibilità di scegliere tra tante liste, dopo aver votato il sindaco, mettete insieme al sindaco delle persone che voi conoscete perché sono serie, perché nella vita hanno realizzato qualcosa, perché si sono date da fare, perché non hanno fatto chiacchiere, ma sono stati al pezzo, perché conoscono la vita, la vostra vita. Allora così si costruisce in qualche modo il meno peggio di un consiglio comunale, pur in questa situazione grave, con il quale poi tutti insieme si può in qualche modo risalire. A. Bisogna andare a votare, 2. Bisogna votare per un sindaco che sia una persona seria, 3. Bisogna dare un voto di preferenza per fare un consiglio comunale di gente seria. Guardate, questa è una responsabilità che abbiamo. Chi dice io non vuoi votare, liberissimo di farlo, si può capire tutte le ragioni, per me è un'opinione mia personale, è un'occasione perduta, perché se non si rincomincia dalla periferia a ricostruire la politica per quanto è possibile ricostruire, guardate, saremo sempre in queste situazioni, ma le situazioni peggioreranno anche. Buon voto a tutti, con serenità e con tranquillità, nonostante tutto andiamo a votare. Buonasera. 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 È doveroso fare un po' una valutazione tutti insieme di quelli che sono stati risultati elettorali nella nostra città e un po' nella nostra provincia. E quindi ragionarci un po' sopra, soprattutto in chiave di prospettive possibili, perché abbiamo un sindaco, la cosa è certa confermata e ufficializzata, che è Samuele Bertinelli, con un risultato personale non indifferente, il 59%, vicino al 60%, e questo è un dato di fatto. E poi c'è stata un po' di rivoluzione per quanto riguarda il voto nei partiti e all'interno o all'esterno delle varie coalizioni. Quindi credo che ci sia da ragionare e da ragionare sempre che debba essere dato, come a me sembra che debba essere dato, l'interesse comune alla città. Non tanto l'interesse, ovviamente passa per i responsabili dei partiti, ma anche per l'interesse per lo strumento che deve servire al fine comune, cioè il partito. Ma insomma il bene primario è l'interesse della città, per questo i partiti si sono incontrati e scontrati durante queste elezioni. Dunque ci sono state delle sorprese, non sto a anticipare io perché in grosso modo le sapete, si tratta di conoscerne un po' i protagonisti e di andare un po' a fondo in questa occasione per vedere con che prospettive si muoveranno i diversi partiti, sia che siano all'interno rappresentati del Consiglio Comunale, sia che siano eventualmente rimasti all'esterno. Andiamo subito ad aprire su questo importante tavolo di confronto e di solito ce li presentiamo via via che ci interpelliamo. Sappiate che ci sono un po' tutti i rappresentanti delle otto liste, degli otto candidati a sindaco, in grosso modo è più semplice fare così, dire questo discorso. Allora, c'è stato un altro dato molto importante sul quale i numeri sono chiari, c'è stata una forte attenzione che ormai nel Comune di Pistoia si può dire che agira sul 45% di persone che non vanno a votare, almeno teoricamente. E questa attenzione è un dato di fatto che incombe su tutta la vita democratica italiana. si tratta di valutarlo, si tratta di vedere come mai, si tratta di vedere perché, si tratta di vedere cosa c'è da fare per adeguarsi, ma questo è un fatto. Un altro fatto importante e gli diamo la parola anche per una sorta di onore delle armi perché è una coalizione che esce vincente o comunque in forte espansione dalle recenti elezioni, che è il Movimento 5 Stelle, il cosiddetto Movimento di Beppe Grillo, sul quale si può dire tutto, certo è lescito criticare tutte le posizioni che prende, come di Grillo, come di tutti i partiti, ma c'è da appigliare atto di un fatto che a Pistoia hanno raggiunto il 10,2%, mi pare che sia questa la caratteristica. Abbiamo qui per Rossi Luca, del Movimento 5 Stelle. Allora, raccontaci un po', voi vi aspettavate questi numeri e come avete visto il risultato pistoiese in relazione anche a tutto il resto della campagna? Sì, allora, per rispondere devo leggere un comunicato che il Movimento 5 Stelle ha stilato per l'occasione. Se il Movimento 5 Stelle avesse scelto la televisione per affermarsi, oggi sarebbe allo 0, qualcosa per cento. Partecipare a talk show serve solo all'audience e fa perdere credibilità non solo a chi ci partecipa, ma all'intero movimento. C'è l'omoglogazione con quel passato fatto di inutili chiacchiere da cui dobbiamo distaccarci come Linus dalla sua coperta. Avremmo potuto mandarvi questo comunicato per mail, ma siccome siamo persone serie e coerenti e siamo abituati a metterci sempre la faccia, ci siamo presentati davanti alle telecamere senza alcun timore. E dal momento che, e lo dico con tutta la tranquillità di questo mondo, qualcuno il giorno prima del silenzio elettorale ha affermato pubblicamente che saremo da cancellare, da eliminare dall'orizzonte dei votanti, rispettando anche questa opinione, ringraziamo per l'invito, vi salutiamo e vi auguriamo buona prosecuzione del programma. Grazie di tutto e arrivederci. Bene, molto bene, grazie. Così abbiamo preso atto di una situazione importante che è un'altra parte dello stile e il modo che noi dobbiamo prendere atto o del quale prendere atto. Voglio solo dire che probabilmente per quanto riguarda la cancellazione si riferisce a un mio commento perché mi riferivo ad un'espressione che Beppe Grillo aveva usato in Sicilia per quanto riguarda la mafia e per quanto riguarda, io confermo la mia opinione che chi dice che il governo Monti ha fatto più danni della mafia perché la mafia piglia il pizzo ma non uccide, mentre invece il governo Monti uccide, io credo che non sia una. Se poi si dice che sono espressioni in fase elettorale per cui dopo, ma se invece si difendono e si confermano, io continuo a dire che queste espressioni, per me vorrei vivere in un paese dove queste espressioni non ci fossero, non tanto per la difesa o l'offesa a Monti, ma quantomeno per la valorizzazione della mafia, per la valorizzazione della mafia che è da anni e da tempo il bubone clamoroso numero uno di questo popolo italiano per il quale probabilmente tutto il sud non cresce e non ha sviluppo. Quindi questa storia, i signori del 5 Stelle, opinione su opinione, loro sono stati cortesi a venire e a dirlo davanti e noi siamo altrettanto cortesi, riteniamo, di dire la nostra e di confermare quello che abbiamo detto. Quindi non scuse da parte loro, tantomeno scuse da parte mia. Questo è il problema. Allora, detto questo vorrei che allora si riprendesse il nostro percorso, perché fra l'altro devo dire che il giorno del cosiddetto silenzio preelettorale è vero che io sono intervenuto su questo fatto che per me era al di là del dato elettorale, era un dato oggettivo. Fuori di ogni momento elettorale, chiunque avesse usato di questa espressione, altre, altrettanto gravi, sono più o meno tollerabili, questa ho ritenuto che doveva non essere tollerata, tantomeno da questa televisione che è solita pigliare le posizioni moderate, ma quando però ci vuole, ci vuole essere chiaro. Bene, allora invece, nonostante non sia potuto fare maggio al successo di La Begrina, invece il PD esce da qui.